I defibrillatori donati alla città di Teramo da associazioni e privati saranno verificati e manutenuti dalla Croce Bianca. È il frutto della convenzione siglata attraverso la protezione civile dal Comune e dall'organizzazione di soccorso per far sì che in caso di necessità questi strumenti salvavita siano perfettamente funzionanti. Questo ci comporterà un controllo periodico di tutto quanto il sistema e di conseguenza con una ulteriore responsabilità in aggiunta a quelle che noi abbiamo. Cosa occorre perché un defibrillatore funzioni correttamente? Un po' tutto, dall'elettricità ovviamente, alle placche, alle batterie, a tutto quanto quello che comporta l'utilizzo e il funzionamento anche la scadenza degli stessi pezzi installati, quindi è chiaro che bisogna sempre prestare massima attenzione perché ricordiamo che sono dei salvavita. Sono nove i defibrillatori in possesso del Comune, cinque dei quali già installati in diversi punti della città. Ora trovarli è più facile perché sono geolocalizzati sull'app Comunica Teramo. La gestione della verifica della perfetta funzionalità di queste attrezzature salvavita sarà in mano loro e nello stesso tempo l'amministrazione comunale garantirà laddove ci sono sia le piastre che le batterie che devono essere sostituite perché hanno una vita naturale, saremo noi ad acquistare i pezzi di ricambio per poter mantenere sempre efficiente ed efficace lo strumento di defibrillazione. Stiamo facendo ovviamente un'attività di monitoraggio e nei prossimi giorni ovviamente tutti i defibrillatori potranno essere trovati all'interno dell'app e quindi il cittadino laddove dovesse aver bisogno di uno strumento salvavita come quello del defibrillatore può anche trovarlo più vicino attraverso l'utilizzo dell'app. Grazie.